Perfetto, mi sono dilungata, arrivederci. No, 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 grazie Rosalia, tanto porrò anche la questione che posso stamattina in trasmissione per quanto riguarda la fermata San Giorgio, visto che dovrà essere realizzata una strada comunale. Allora andiamo avanti, cioè iniziamo con il trasporto pubblico. Sulla complanare non credo che nel 12 e nel 12 barrato siano mai passati, lo so bene perché li ho usati per tanti anni, li uso ancora, io abitatore a mare, quindi sono mezzi che conosco. Prima facevano fermata, hanno cambiato percorsi perché adesso vanno sul lungomare, prima facevano tutti e due la statale, ma hanno cambiato più che il percorso la fermata, nel senso che prima ci si fermava sulla statale 16 e quindi in particolare in corrispondenza dei due sovrappassi pedonali veniva data la possibilità ai residenti di quella zona di San Giorgio di poter fruire del mezzo di trasporto pubblico senza necessariamente scendere sul lungomare. Oggi lo possono fare, però capisco che quella parte di utenza, clientela, se la vogliamo chiamare così, che abita lato statale 16 ha difficoltà ad arrivare a piedi sul lungomare, contrariamente a chi abita invece lato lungomare che può accedere facilmente a quella linea di trasporto pubblico. Farla passare sulla complanare, la complanare è unica perché in quel tratto di strada non c'è la complanare est, esiste soltanto la complanare ovest, questo lo dico anche da ingegnere dell'ANAS in aspettativa, quella strada la conosco bene perché l'ho gestita, quella complanare a monte, quindi la complanare ovest, non credo abbia le dimensioni, credo che l'abbiamo già affrontato questo problema col comitato di San Giorgio, non credo abbia le dimensioni che sono di 7 metri, 3 metri e 50 per ogni corsia, che permetta all'autobus di poterlo percorrere in sicurezza. Proviamo a sperimentare questa idea che ha dato il Presidente dell'AMTAB, condivisa dai cittadini di San Giorgio, perché Rossella rappresenta il Comitato, il Presidente del Comitato, che mi sembra onestamente una buona idea, dobbiamo soltanto vedere se ci sono porzioni di suolo vicine ai sovrappassi pedonali che ci permettono di creare un'ANSA all'interno senza toccare la complanare perché diventerebbe più complicato, che però rispetti la normativa perché dobbiamo fare una corsia di ingresso, poi abbiamo bisogno dello stallo del bus di almeno 12 metri e una corsia di uscita per poter rientrare in sicurezza. Io l'ho fatto tanti anni fa quando stavo all'ANAS per un altro autobus nella zona di Palese e Santo Spirito, di quelle quattro fermate che furono soppresse due riuscimmo a recuperarle perché avevamo lo spazio fisico per poter realizzare queste corsie di ingresso e uscita dalla statale 16, vediamo se c'è un suolo, lo verifico, io lo posso verificare stasera tornando a casa, vediamo se c'è un suolo e possiamo anche espropriarlo, non è un problema, vediamo se c'è la possibilità. Prendiamo un'altra telefonata, pronto?